Buongiorno a tutti, Isla Pistoia vi dà il benvenuto, stiamo in un'oas di tranquillità, ma questo non vuol dire che Isla Pistoia abbia rifiutato la nomination dalla segretaria nazionale di Isla Nazionale, cioè la signora Lea Gabin. Accetto la nomination, faccio presente che la mia doccia fredda l'ho avuta all'incirca 11 anni fa, al momento a cui mio marito è stata di affiariata.